Scatta da oggi la sosta a pagamento sulla riviera di Pescara, che andrà avanti fino all'8 settembre. I circa 1.400 parcheggi gestiti dalla Pescara Multiservice, partecipata del Comune, manterranno invariate le tariffe e gli orari della scorsa stagione estiva. Dalle 8 alle 19, sostare con l'auto sul lungomare costerà 1 euro l'ora, 5 euro per l'intera giornata su viale della riviera e lungomare Colombo, lato mare e lato monte, 4 euro al giorno all'ex Enaip, dove la sosta a pagamento è prevista dalle 8 alle 20 e fino alle 2 il venerdì e il sabato dal 14 giugno al 31 agosto, compreso il 15 agosto, e 3 euro al giorno per l'area meridiana e le aree di via Barbella. La sosta potrà essere pagata presso i parcometri in contanti, ma anche con il bancomat tramite i post delle stesse macchinette. Sarà possibile acquistare i biglietti anche dal seto internet della Pescara Multiservice o nel punto vendita di Piazza della Repubblica, o acquistare abbonamenti con la possibilità di risparmiare sull'occupazione degli stalli. Tra le aree disponibili per la sosta, quest'anno non ci sarà la strada parco, occupata per la filovia. Gli introiti derivanti dalle strisce blu sulla riviera nord e sud di Pescara durante la stagione estiva movimentano circa 400 mila euro, ha spiegato il Tg8 Benedetto Gasbarro, amministratore unico di Pescara Multiservice, che anche quest'anno ha reintrodotto la riduzione del 50% delle spese per le auto ibride e l'esenzione totale delle spese dei parcheggi per le auto elettriche. E intanto il servizio della sosta a pagamento divide i cittadini, tra chi si dice favorevole e chi contrario al provvedimento adottato dal comune. Io sono un streno assertore della macchina lasciata a casa. Perfetto, così bisogna fare, altrimenti i posti non girano mai, arrivano quelli che lavorano qui, si mettono alle 7 del mattino e per noi non c'è più posto. Per me è veramente sbagliato, per il turista, per noi, non è che possiamo pagare per 4-5 ore. Ma veramente io non sono di Pescara, comunque il parcheggio a pagamento lungo mi sembra una cosa abbastanza normale, penso. Siamo di Francavilla ma lo stesso, lo stesso problema. O a pagamento, o non a pagamento, il problema più grosso è il parcheggio. Anche altre città lo fanno, lei è d'accordo? No. Il parcheggio a noi ci ha messo a disagio questo, che stanno facendo... Hanno chiuso parecchie cose davanti alla stazione ferroviaria. Noi abbiamo parcheggiato in un albergo, non è un nostro problema. Paghiamo il bollo per la macchina, paghiamo le tasse, perché dobbiamo pagare pure ulteriori parcheggi. Nella vostra città si paga se siete in una città di mare? Sì, pure caro. Torvajani, Cavostia, tra zona del litorale. Oggi l'ho pagata, non so se dovevo pagarla perché i cartelli non sono... Sì, da oggi. Da oggi si paga e l'ho pagata, quindi ecco lì si parca. Se non fosse regolamentata così sarebbe una società selvaggia come ai vecchi tempi. Parla uno che sta a Roma, che deparcheggi chiaramente e conosce molto bene che significa. Tu rischi da fare 45 minuti per cercare un posto di macchina. Infatti noi non usciamo mai perché una volta parcheggiata la giornata è finita. Grazie. Grazie.